Allora, dobbiamo discutere perché mi sono un po' arrabbiata, perché tu veramente non mi ascolti mai, cioè io, quando voglio parlarti, tu sei sempre con i tuoi pensieri, io non lo so, cosa capita nella tua testa, cioè, io voglio raccontarti che ieri mi sono visto con la... Grazie a tutti!